Un regalone di Natale a casa ai politici, mettete una firma per il Movimento 5 Stelle. Siamo stanchi, siamo stanchi, nuovi volti, giovani che sanno fare le cose per noi, questi vecchi politicanti tutti a casa, finito per tutti, speriamo. Lei signora che dice? Basta, finito, finito, è finito, è tutto finito, sicuramente, sicuramente. Ma questo voto, questa presenza del Movimento 5 Stelle pensa che può essere una soluzione per tutti i problemi? Guardi, io non lo so se è una soluzione, proviamo a farla diventare una soluzione, va bene, proviamo a fare, a metterci con gli onesti, soprattutto con gli onesti. Scusate, adesso mi ascolta. Grazie mille. Al Movimento è l'unica alternativa possibile, quindi meno male che ci sei voi. Va bene, grazie. Grazie mille.